Migliorano di ora in ora le condizioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ricoverato a Padova da giovedì sera dopo un malore mentre era a cena con amici in un ristorante di Borgoricco. Dopo un primo ricovero in terapia intensiva per un prudenziale monitoraggio delle sue condizioni, Brugnaro è stato trasferito oggi nel reparto di medicina generale, l'ha reso noto l'azienda ospedaliera. Lo stesso primo cittadino ha voluto rassicurare tutti, ringraziando per i messaggi di vicinanza giunti in questi giorni da cittadini e istituzioni, sia locali che nazionali, mentre la sua squadra continua a portare avanti gli impegni proprio come vorrebbe lui. Auspicchiamo che torni presto nel suo ruolo, in ufficio, magari calmandosi un po', nel senso facendo i ritmi un po' più tranquilli perché era un gran lavoratore, faceva 12 e passa ora in ufficio. Ho sentito i suoi collaboratori, ho sentito la famiglia per accertarmi delle condizioni anche per dimostrargli vicinanza e dargli la massima disponibilità per aiutare qualsiasi necessità. Poi naturalmente l'attività va avanti normalmente, quindi siamo impegnati anche nel weekend, stamattina eravamo a Venezia, oggi siamo mestri per alcune cose, quindi l'attività va avanti normalmente e speriamo che anche la settimana prossima penso che vada avanti tranquillamente e poi naturalmente penso che col tempo lo sentiremo. Brugnaro, 60 anni, ha perso i sensi mentre era a tavola con un gruppo di amici, tra cui anche dei medici che gli hanno praticato le manovre corrette di rianimazione in attesa dell'ambulanza. Una volta risvegliato in ospedale la prima cosa che ha chiesto sono stati i suoi occhiali per potersi aggiornare. Certamente dovrà ora modificare un po' i suoi ritmi. È giusto che magari si riposi un po' perché naturalmente il colpo che ha subito non penso sia stato semplice, però sono sicuro che non vorrà riposare più di tanto perché è sempre stato uno abituato a lavorare molto. Grazie a tutti.